La parola cambiamento Forse la maggioranza di voi non sanno che la parola cambiamento è una delle parole più utilizzate in tutte le lingue. Quindi immaginate di che cosa parliamo. Ma non solo. La parola cambiamento, in qualunque lingua viene utilizzata, è una parola che viene definita dai linguisti performativa. Cosa significa una parola performativa? Che mentre la enunci crea già una sensazione, crea qualcosa. Quando noi sentiamo la parola cambiamento o change o perestroica, immediatamente la nostra mente va ad associare a qualche cosa che porta dal presente a un futuro differente. Quindi la parola cambiamento è come una promessa. E' per questo che viene utilizzata così tanto. E' una delle parole che crea immediatamente un moto emozionale. E' per questo motivo che è una parola chiave di campagne promozionali, di campagne pubblicitarie e di tutto ciò che è influenzamento sociale. Ma questo sembrerebbe orientato solo alla psicologia delle masse e delle folle, ma in realtà, anche se noi guardiamo a quello che avviene dentro la mente del singolo individuo, il termine cambiamento ha un potere evocativo decisamente molto potente, anche all'interno di un semplice dialogo. Quindi non si poteva lasciare questo termine così poco trattato e non è un caso che lo stesso Gotayama Buddha dice che l'unica cosa costante nella vita è il cambiamento. Ma nella nostra filosofia ellenica, Eraclito, ancora meglio di Buddha, tratta il cambiamento quando ci spiega che tutto è in evoluzione costante, pantarei, niente più lo stesso, tanto che non si può mettere il piede sulla stessa acqua, nello stesso fiume, perché tutto si evolve. Ora, questo spesso viene rifiutato perché destabilizza, perché toglie sicurezza. È molto più comodo pensare che le cose stanno così e staranno così, perché mi sento più tranquillo, perché ho raggiunto una sicurezza, si manterrà la sicurezza. Questo non avviene solo filosoficamente. Voi sappiate che la maggioranza delle persone ama parlare di cambiamento, poi non è in grado di realizzarle. E voi dite, come mai? Siamo tutti così deficienti nel senso di deficere, ovvero ci manca una capacità. In realtà è una cosa completamente differente. Quello che fin dalle scienze prime è stato studiato, quindi dalla fisica, dalla biologia, è che ogni sistema vivente, una volta che ha raggiunto un equilibrio, tende a mantenerlo. Si chiama principio di omeostasi. Quindi, tanto è forte la vocazione per il cambiamento, tanto è più forte la resistenza al cambiamento. Questo è il motivo per cui le persone, e non solo le singole persone, i gruppi, le folle, le nazioni, hanno difficoltà spesso a cambiare, anche quando il cambiamento sarebbe garantito come un miglioramento. Il grande biologo Claude Bernard, poi l'altro psicofisiologo Shannon, negli anni successivi, hanno proprio elaborato questa definizione, osservando proprio il funzionamento dei sistemi viventi, dalla meba al sistema più evoluto. Ogni volta che un sistema vivente raggiunge un equilibrio, tende a mantenerne la stabilità, anche quando quell'equilibrio è disfunzionale. In ambito clinico, si osserva come le persone più sofferte tendono a resistere al cambiamento della loro sofferenza, anche se sembra apparentemente paradossale. Ma in realtà non è un paradoss, è una proprietà degli esseri viventi. quindi tutti noi amiamo parlare di cambiamento, amiamo pensare al cambiamento, ma abbiamo resistenza a realizzarlo. Ora, uno degli argomenti fondamentali di questa giornata è proprio trattare come aggirare queste resistenze. Siamo in un'epoca dove, sapete meglio di me, va di modo a parlare di pensiero positivo, fai un po' di visualizzazioni positive, la vita ti sorriderà, tutto cambierà felicemente. Sappiate che io sono uno dei più streni oppositori a questa idea, proprio perché viola la prima legge della biologia. Anzi, molto frequentemente pensare in positivo porta all'effetto contrario. Se voi dite a una persona tendenzialmente depressa, pensa in positivo e quella ci prova, si deprime ancora di più. Oppure dite a una persona che ha subito un lutto, dai, la vita cambierà, andrà bene, ti passerà, sì. O un imprenditore che ha avuto un fallimento. Pensa in positivo, questo fallimento sarà utile per creare un'azienda ancora migliore di quella che hai appena perduto. non ti preoccupare, il debito in banca ti aiuterà a crescere meglio, lo sanerai con le visualizzazioni positive. Quindi, vedete, siamo in un'epoca dove furoriggia un'idea che viene dal mondo anglosassone, in particolare da quello americano, dove il pensiero ottimistico viene propugnato come il modo per realizzare la vita felice. Ma, devo dirvi che proprio l'autore fondamentale, Martis Lickman, nel suo libro sull'imparare l'ottimismo e altri testi, spiega proprio che il pensiero positivo fa bene solo a chi già sta bene, non a chi sta male. Tanto che questa è una strategia per migliorare, non per risolvere situazioni. Il miglioramento è una cosa perché vuol dire migliorare uno stato che già funziona. Il cambiamento, passare da uno stato che non funziona a uno stato disfunzionale è tutt'altra cosa.